Il convegno La Città dell'Arte tra architettura e mosaico a Ravenna a Casamata ha visto artisti, studiosi, architetti confrontarsi sul futuro e il passato dell'arte musiva. L'evento è stato organizzato da Fondazione Flaminia, Scuola Superiore di Studi sulla Città e il Territorio, in collaborazione con Comune di Ravenna, Ravenna Antica, Marra, Istituzione Biblioteca Classenze, Accademia di Belle Arti, Disordine e Casamata. Si è parlato di interventi sul territorio, nuove idee e di artisti come Antonio Gaudì, Carlo Scarpa e l'architetto greco Dimitris Pichionis. Il convegno ribadisce una collaborazione con Fondazione Flaminia e con l'Ateneo di Ravenna, una collaborazione che comunque è cresciuta e che serve anche ad approfondire temi importanti come quelli del mosaico. Non c'è dubbio, la collaborazione con l'Università di Bologna e con la Fondazione Flaminia che ne è uno dei cuori propulsori è una collaborazione di straordinaria importanza. La presenza universitaria in una città è una ricchezza con effetti di moltiplicazione davvero molto, molto importanti. Lo è stato anche in occasione della Biennale. Questo convegno è oltremodo significativo non solo perché offre un'occasione di riflessione teorica sulla città dell'arte e sul rapporto tra architettura e mosaico, ma anche perché proporrà all'attenzione della città e di tutti noi alcuni esempi oltremodo significativi di intervento sulla città. Il progetto Onda Chaiso Onda è un progetto legato al territorio. In cosa consiste esattamente? Beh, intanto va detto che l'Onda Chaiso Onda parte da un'onda, la grande onda che è stata realizzata al museo sulla città e il territorio di classe. Ed è uno stimolo che ci ha fornito l'amministrazione, quasi una commissione, una richiesta di ragionare su come legare il tema dell'acqua e quindi il tema di questa onda a un percorso che colleghi, che mette in rete tutti i siti archeologici del parco di classe. Quindi a partire dalla Chiavichetta, dall'antico porto, quindi anche qui acqua, fino alla Basilica di Santa Polinari in classe per poi connettersi attraverso la parte urbana di classe con il museo di classe. Quindi lo stimolo è stata l'acqua come elemento anche di unione di una serie di fatti che attengono alla città e che attengono al territorio. L'acqua Ravenna poi è importantissima, l'uso dell'acqua, la vediamo anche rappresentata nei mosaici di Ravenna come elemento salvifico, non soltanto di rinfrescamento dell'anima ma anche di collegamento con Dio. Quindi l'acqua è l'acqua della subsidenza, l'acqua è l'acqua del mare. Quindi questo tema dell'acqua è stato uno dei motori di questo progetto che abbiamo chiamato Onda che esonda, perché l'onda del museo di classe esonda nella città, esonda nel territorio. La seconda giornata sarà dedicata al rapporto tra architettura e mosaico visto alla luce di tre grandi personaggi come Gaudì, Scarpa e l'architetto greco Picchionis. Sì, l'idea è stata quella appunto di partire dall'idea di questa citazione che ogni costruzione è fatta di frantumi. Ho pensato di individuare tre grandi figure del Novecento in cui questo tema era stato declinato in modi diversi, ma sempre ad altissimi livelli naturalmente. Per cui era normale partire con Gaudì, poi proseguire con un architetto molto meno noto, ma che è stato molto importante negli anni Cinquanta. Dimitris Picchionis, che probabilmente il grande pubblico non conosce, ma si ha calpestato il sentiero dell'Acropoli andando a vedere i capolavori appunto del Partenone, dei Propilei e dell'Eretteo. Sicuramente forse non si è reso conto di camminare su un capolavoro che fra l'altro è stato premiato col premio Scarpa e proprio Carlo Scarpa è il terzo personaggio a cui abbiamo pensato.